Seconda settimana per la nuova sopopera di produzione turca di Canale 5. In onda dal lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024, a partire dalle 14.45, The Family ha come evento saliente le imminenti nozze tra Aslan e Devin. Un'unione, però, destinata a scontentare qualcuno. The Family, le anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024. Durante la festa di compleanno di Ergun, la situazione si complica. Aslan difende Devin, promettendole amore eterno. Devin, commossa, gli chiede di sposarla. Aslan corre a casa per cercare sua nonna scomparsa, la trova con l'aiuto di Devin, ma quest'ultima si irritata con Ulya, e annuncia a sorpresa la sua proposta di matrimonio. Cian si presenta allo studio di Devin sotto falso nome, ma lei lo riconosce. Poco dopo, Devin presenta Aslan ai suoi amici e tutti festeggiano il fidanzamento. Durante la serata, Aslan si infuria vedendo il marito di sua sorella con un'altra donna, ma Devin rimane al suo fianco. Intanto, la madre di Aslan vuole impedire il matrimonio e prepara un contratto prematrimoniale per Devin. Ulya visita Devin fingendo di scusarsi per il comportamento di Aslan, ma in realtà cerca di scoraggiarla dal matrimonio. Aslan scopre il contratto prematrimoniale e si arrabbia con sua madre. Ibrahim scopre le vere intenzioni di Atilla riguardo al documentario e lo affronta. Cian cerca di parlare a Devin della sua infanzia infelice. Devin scopre il contratto e decide di interrompere la relazione. Atilla subisce pressioni da Ibrahim e Aslan per il controllo del suo canale televisivo. Ulya deve difendersi da Ibrahim, che, nell'abitazione, porta guardie di sicurezza e un abbadante per sua madre. Aslan avverte l'avversione di Ulya verso Devin, considerandola inadatta alla famiglia Saikan. Successivamente Aslan mette in chiaro con la madre che non permetterà a nessuno di ostacolare il suo amore per Devin, il matrimonio viene fissato per la settimana successiva. Ulya scopre che Cian è un paziente di Devin e lo invita al matrimonio. Dove vedere The Family in TV e in streaming, dal 15 al 19 luglio. I nuovi episodi di The Family vanno in onda su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024 a partire dalle 14.45. Le puntate della SOP Turca sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.